SaveDrive è salita a bordo di una delle ultime creature ideate dalla casa coreana Kia. Si tratta della versione crossover coupé della best seller SEED, quella che dietro alla lettera X nasconde muscoli ed energia. Le due forme innovative, la sua versatilità e le dimensioni a misura di città che non mettono limiti al grande comfort a bordo, ne hanno fatto da subito una vettura di successo. In vendita in Europa dalla seconda metà del 2019, a oggi è stata scelta da oltre 20.000 automobilisti. Le vendite sono però destinate a crescere con l'introduzione delle varianti Mild Hybrid, Plug-in e B-Fuel, benzina GPL. A questo proposito Giuseppe Bitti, amministratore delegato di Kia Motors Company Italy, ha dichiarato. Questo debutto commerciale porta con sé un grande significato in termini di presenza sul mercato. X SEED si presenta con una delle offerte di motorizzazioni più complete di sempre del segmento C, segno della volontà continua di Kia a puntare su innovazione, qualità e tecnologia dei propri prodotti. Dopo un giugno caratterizzato dall'apertura della vendita della nostra gamma elettrica, ecco che a luglio si completa anche questo importantissimo tassello. Per la prima volta il sistema Plug-in a basse emissioni approda quindi anche all'interno della famiglia SEED, che ora può contare sulla tecnologia già presente sul modello Niro, composta da un pacco batteria da 8,9 kWh e un motore elettrico da 44,5 kW, affiancato da un motore a benzina 1.6 per una potenza totale di 141 CV, 265 Nm di coppia. In attesa di testare le doti della versione ibrida, la redazione di Safe Drive è salita a bordo della X SEED con motore 1.4 benzina da 140 CV, abbinato al cambio automatico DCT. Questa variante è dotata del filtro antiparticolato per ridurre le emissioni, garantendo il rispetto dei requisiti Euro 6 di Temp. Anche i consumi non sono niente male, si attestano infatti sui 5,7 litri di carburante ogni 100 chilometri. Si tratta di una versione particolarmente divertente da guidare, con un comportamento al volante piacevole che sintetizza alla perfezione sportività e manovrabilità, grazie a una nuova tecnologia per le sospensioni adottata per la prima volta su un modello della famiglia SEED. Il listino di Kia X SEED parte da poco più di 22.000 euro, ma le versioni con il motore da 1,4 litri hanno una forbice di prezzo che va da 25.750 euro al 30.250.